Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa terza e ultima parte dell'apertura delle 50 bustine dei calciatori panini 2014-2015 In questa terza e ultima parte appunto apriamo le 20 restanti bustine Vi ricordo che 8 sono quelle a maggio Penso che sia indifferente ma comunque... Quindi comincio ad aprire da queste Adesso magari in quelle sono tarocche, non ci trovo niente Bah, chi lo sa Ma chi lo sa Ci abbiamo P.O. di subito Subito, proprio subito Beh, bravissima Pioli Montolivo, sì E' lui, l'ho visto al contrario Bardi Belfodil Bertolacci Evra E basta, sono finiti Comunque c'è anche una sezione in questo album Ah, sì, comunque non ho ancora comprato l'album Io sono un fottutissimo genio C'è una parte di carte speciali Dedicata ai calciatori Comunque, giocatori dell'Under 21 Italiano ovviamente Non quella cecoslovacca E comunque E c'è anche Berotti Quindi vorrei trovarlo Anche se ancora non ne ho trovata Cioè non ho visto nemmeno una di queste figurine Comunque Biglia che è nato a Mercedes Cioè è nato dentro una macchina Vabbè Eh ma non puoi fare ste cose così capitano Dai Eh, eh Non puoi Non puoi spuntare così Eh, eh Di garbarretto Poi Squall Missiroli Benassi Eh No, eh Che palle Eh, prima Prima doppia penso In assoluto E addirittura una speciale E vabbè Uh, scudettini Mi piacciono troppo gli scudettini Seriamente Sono molto swag Ma comunque 3 del Bari Con Donna Rumba Crotone De Rossi Como e Cremonese L'aspetta la metto da parte Juve Stabia e Lecce E Eh, proprio qua abbiamo Lo squetto del Como Della Cremonese Del Ferral Pisalo E del Gianermio Vabbè comunque LOL Per questo l'ho conservata Si, si, si Che bello Si, si, si Eh, è al contrario Uh, che bello Adesso c'è una mega foil No, si è vero foil Oh, LOL 4 La numero Uh, forse qualche Eh, come si dicono Eh, si No, è uno scusere Quattro C'è Oh, mio Dio Oh, mio Dio Vabbè, allora Vediamo No, non la voglio vederla Fui Oddio, non so come fare Facciamo Così Ok C'abbiamo i turbe Mi hai fatto spendere Non so quanti milioni Al fantagall Ti ammazzerei Proprio a botte Eh, i turbe Lumezzane E Mantova Vidal Cavanda Poi ci abbiamo Lo scudetto dell'Atalanta Non l'ho già trovato Oh, sì Boh Eh, comunque del Palermo Abbiamo L'84 Centrocampista Natto a Schivio Vicenza E Rigoni Ed è Rigoni È Luca È Luca Rigoni Non Nicola Grande Rigoni Già tre gol Quest'anno Eh, sinceramente Proprio da lui Non me li aspettavo Dove essere sincero No, perché ho messo Il coso dell'Atalanta Ah, ok Non ricordo se l'abbiamo Già trovato Quello dell'Atalanta Sì, appunto Già trovato Eh, va bene E andiamo con le doppie Mi fanno troppa rabbia Le speciali doppie Perché ce n'ho un botto Quindi perché Devo andare a trovare Proprio le doppie Boh Ma comunque Provercelli Squadra De Jong Nato d'Amsterdam Eh, che bello Rafael Galloppa Molto arrabbiato Ietei Spiezo Viviano E Piris 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 Oh, uno del sassuolo Del saxofone Eh, che bello Il Dortmund perde 2-1 Che schifo Comunque ci abbiamo Magnanelli Con il sassuolo In C2 C1 B3 Grande Veramente No, è sporca What the fuck Qua sopra È sporca Vabbè 3 del Bari Struna Ah, è finito il Bari Struna Era del Palermo Cioè, diciamo Era del Palermo Faceva il turista a Palermo Eh Il Natale del Perugia Il Pescara Campone Baroni Coda 3 del Pescara E 3 del Barese Va bene Va bene Va bene Uh, scudetto No, Maya Perché non trovo quelle del Palermo Scusa E Scusa Torino sicuro Prima mai Almeno Ho visto il Granata Poi non lo so Giorgiovic Perico Gervinio In tutta la sua bellezza Ionita Vabbè Vorrei fare una bozza Ma non la faccio Ok Stai calmo A posto Freddy Guarin Che bella bustina Abbastanza carina E poi abbiamo Ah, no È la Roma Uh, bella La prima maglia Della Roma Bella Grande Roma Dai Roma Ok, io spero che Il campionato Lo vince La La Roma Adesso Ti Ah, vai Ah, vai Ah, vai Eh, sì Vai Fato Uh, attenzione Uh Uh, la seconda maglia Della Roma Non ci credo Tutte di fila Non potrebbe essere così Pure per il Palermo No, vero? Comunque Bonera 3 del Frosinon Paletta Che bello Pettinatemi Come capelli Basta Non so parlare Comunque abbiamo Ferri Gioca ancora Ferri Va Icardi Oh Pure lui Ha il fantacalcio Ce l'ho E la seconda maglia Della Roma Bella Il Palermo L'anno scorso Ce l'aveva pure così Con sta banda qua Banda l'arc Così si chiama Almeno Così mi hanno detto Loll Eh Niente speciale Eh Del Napoli Benitez E lui Guardate come è spuntato Bello carino Per ora Benitez Ma comunque Lo abbiamo Benitez Candreva Sì E lui E Candre E Candreva E Allora Andrea Ti spiego Tu come Tu compare Barreto Non lo dovete fare così Capito Intanto Tanti auguri A Belotti Che è nato oggi Non so se potete notare Il 2012 93 Intanto gridano Yeah Non grido io Gridano loro No 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 Fermo Ok È nato il 2012 93 Oggi sto Registrando il 20 12 2014 Però Lol E quindi c'è il gallo C'è il gallo Cadi Rigoni Cadi Allora io non ho capito se Ah Bello C'è praticamente il quiz Del tifoso Le domande dietro Sono relative al Palermo Comunque Ad esempio vediamo Questa di Belotti Davies Mangia Ex allenatore Lender 21 italiana È stata anche sulla panchina Il Palermo Quando? Allora Non me lo ricordo Però 2011 Sì Mi ricordo comunque Che alla prima Ha vinto 4 a 3 Contro l'Inter Che bei ricordi Mamma mia Seidu Keita No non sono io Basta Zazzo Grande Zazzo Non lo so Lo stimo troppo Mi piace E Barreto Che non è Barreto Hanno oscurato Barreto Ah bravo Avete capito No perché gli stanno spiegando Che non si spunta così Sembra mezzo No di nuovo E di nuovo C'ho C'ho Iachini doppio Me lo appiccico nel diario Giuro Ed è ancora lui Mister Beppe Iachini Attenzione Sto facendo proprio Un digestione No però All'aspetta Oh mio Dio Cadono Tutti cadono Cadono tutti I piedi di Iachini Del grande mister Lo metto qua sopra Ecco Si vede Si vede Che bello Ok non è messo a fuoco Però si vede Lo veglia su di noi Grande mister Ok basta 3 del lavellino 3 del crotone Iachini Alla faccia da 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 Non lo so Da escort russa Tipo Lol Sono serio E allora Grandi Hanno messo Palermo E Roma assieme Tra Palermo E Roma È nato un gemellaggio Non so come Però è nato Eh puff Non riesco più A mettere Tutte le carte Del Palermo Ok Bravo Eh poi vabbè Versa normanna E Barletta Ok cioè Quest'ultima parte Mi sta dando Una soddisfazione Tremenda Adesso magari Se trovo lo scudetto La maglia Non è che mi dispiace Però Eh C'è quella Del Ciesena Menez Cesar Varelli Piniglia Pogba E Maglia del Ciesena Dovrebbe essere La prima Poi non lo so Ultime nuove Bustine No che cosa triste Tanto ma tanto triste Oh C'è una foil La 106 La 106 Sì No niente Pensavo No niente Passa No no Zì non ve lo dico Cottafava Skorupski Secondo portiere ovviamente Della Roma Albino Leffe E Alessandria Morata Che non sta sorprendendo tanto Ci si aspettava di più Sì E La maglia dell'Ellas Non so quale però È dell'Ellas Sì È dell'Ellas Vero sì No È del Verona forse No Ma aspetta La scaletta C'è l'Ellas Sì sono sicuro È l'Ellas Anche se Oh mio Dio Aspetta Allora Qualcuno del Chievo Per favore E ovviamente Non c'è nessuno Del Chievo Grazie 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 Ah Chievo Verona 83 Eh sì Mi sa che è del Chievo Ma strano Io mi ricordo Che quella scaletta Ce l'aveva l'Ellas Boh Vabbè Ah ok Mi sono scrosciato Tutte le dita Sì Yeah Tipo a farmele saltare No Piaggio Perché ancora Perché Non lo capite Che già ce l'ho Basta Stop Ok Eh va bene Eh va bene Capuano Cesar De Santis Tutte doppie Non ci credo San Getsmino Almeno Che non è dopo Oh Stiamo maggio Le dovevo aprire Per prima Oh La prima maglia Del Napoli Mi manca Violenza Time Yeah La prima maglia Del Napoli Che mi manca Buono Sti tre Del Cittadella Eh doppia Uh Gomez Grande Sta riprendendo L'Infortuna Cioè si è già ripreso Comunque Tre del Pescara E la squadra Del Bologna Che è scesa Quest'anno Cioè Sì quest'anno Giusto Guardate che Eh No È di nuovo Hernanes Perché Perché Io mi chiedo Solo perché E poi mi chiedo Se sei dukeità Ho visto del rosa E la macchina svanisce Vediamo se è vero E attenzione E allora Un che ci abbiamo Hernanes Vabbè Il salto della morte Non so cosa Baselli Un attaccante No se è di bara Tipo Resto paralizzato A vita Galloppa Ancora Tre della Preccelli Beccelli Pereira Baselli E Attaccante Dimmi che Qua c'abbiamo Dinosauri Gaston Sauri E' un nuovo tipo Di dinosaurio Sapete Tirannosauro Gaston Sauri E basta Magnuson Tre del Perugia Di ruota Dei Eh ce l'ho già Tre della Provercial Che ce l'ho già Ecco E questi tre Del Vicenza Poi ci abbiamo Le ultime Quattro bustine Tanto Vola Mister Iachini Mister Eh Per favore Un poco di Eh ho capito Che devi andare Però Calma Sembra Iachini Ringiovanito Questo Comunque Troppe carte Del Palermo Veramente In questa parte Non me lo aspettavo Comunque Anche complessivamente Un sacco Del Palermo Comunque Bisoli La Torre del Cesena Ma se non sbaglio È stato esonerato Però Non mi ricordo Sì è stato esonerato Carmona Perico di nuovo Lucarelli di nuovo Ionita di nuovo Pasquale Mi manca Eh E come fu Bah sono cadute Le lascio lì Morire in pace Non so dove Ah qua c'è Di Francesco Sì eccolo Si chiama Sì ok Di Francesco Eusebio Che bell'uomo Tre del Brescia Tre del Crotone Bassi Dell'Empoli Doppia E doppia Ma tutte e doppia In questo omaggio Lo fanno apposta Ah panini di Eh eh Dai Ti chiedo Soltanto un'ultima cosa La divisa del Palermo Una qual sia Anche se la terza È davvero brutta Cioè Non c'è niente di rosa Cioè Addirittura Lo squetto è tipo scolorito Boh 207 Non può essere mai A posto Cioè Mio Balzano Rafa è doppio Pasqua è doppio Doppio Cova c'è Mi manca Eh Ah La maglia dell'Ellas Sì appunto Quella Dov'è È del Chievo questa Perché come sponsor Ha Givopa Non so se vede Sì Givopa Mentre L'Ellas Che è questa qui C'ha la Nike Ok niente A posto Mister Risolto Ah vabbè Sì comunque Sì infatti Il derby della scala Comunque Sì più o meno Vabbè Cosa sto dicendo Ultima bustiglia Oh mio dio Cioè me le sono fumate No Per un attimo Ho creduto Tipo che fosse Quello del paletto E invece no Vabbè Abbiamo lo squetto Della Lascio Vado velocissimo Eh Loro Vabbè lui Stratma Doppio È scuffetto Buono Niente male Scuffetto Che si è infortunato Si è rotto tutto Poi Eh Beh ragazzi Per questa prima apertura Diciamo che è tutto Per quanto Ci sono un bel like Alla prossima Da Charmo E ciao